A volte, soprattutto quando ci sono grandi problemi da affrontare, c'è la sensazione che il male sia più forte. E viene da chiedersi, che cosa devo fare? Quale via devo seguire? Ascoltiamo la risposta di Gesù. Io sono la via. La verità è la vita. Io sono la via. Gesù stesso è la via da seguire per vivere nella verità e avere la vita in abbondanza.